quando abbiamo preso le mele. Sono Arnaud. Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Senti. Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui. È solo colpa mia. Ho preso io quella mela. Vediamo dove vanno. Se ne stanno andando. Presto! Presto, è successo qualcosa. Signor Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia. Se giudicassimo le nazioni in base ai loro criminali, tutti i popoli sarebbero vatti. Giudicassimo, grazie. Sembra. Non può perdere. Fincana.